Allora, adesso noi andiamo avanti, è molto emozionante, devo dire, avere la musica che ancora una volta unisce tutti i paesi in un attimo. Andiamo avanti con il balletto, dicevo, siamo arrivati alla semifinale della gara dei treni. Rusty, il treno a vapore, rientra in gara, ma non vuole gareggiare contro i mostri del futuro, contro i mostri del 2000, perché pensa che non ce la farà mai. Allora, il padre del treno a vapore gareggerà al posto di Rusty, non ce la farà, morirà, però prima di morire darà l'ultima lezione di vita e di fede a suo figlio, che praticamente rappresenta l'umanità. Per la coreografia di Sergio Iapino, Starlight Express. Per la coreografia di Sergio Iapino, Starlight Express Questa è la notte della semifinale della gara dei treni. Treno a vapore, rientra in gara, al posto di un concorrente qualificato. Treno a vapore, rientra in gara, a vapore, rientra in gara, a vapore, rientra in gara. Come organizzano, Starlight Express When the oil runs dry, what can we try? We could use the sunlight But it don't shine at night Electricity is fine Till they leave sunlight Grazie a tutti 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 Grazie a tutti